è successo che i carabinieri e la polizia con tutte quante le forze dell'ordine praticamente hanno fatto un posto di blocco per acciuffare i ladri voi aspetta i ladri stanno facendo un forte inseguimento un forte inseguimento e tra poco arrivano sulla statale del ponte ci sono tutti quanti i carabinieri, i poliziotti che hanno predisposto un posto di blocco tutti quanti là, no questo lo devi mettere qua e va bene, va bene pure là, qua qua, perfetto perfetto, eccoli qua teniamo la polizia, disegniamo i carabinieri, l'esercito e i vigili del fuoco neo 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 allora eccoli qua che arrivano, stanno arrivando i ladri, la jeep siamo pronti? no 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 è sbagliato, sei pronto? insieme vai no no carica carica, ok, siamo pronti? basta basta io quando diciamo 1 parti 3 2 1 via nooo forzati il posto di blocco, li hanno arrestati guarda con che macchina, volevano fare la gara volevano fare l'inseguimento con questa macchina carcassa e poi con questa jeep wrangler, ma adesso i carabinieri li hanno arrestati arrestati in gattabuia ma Attraveri no!